LH ho incontrato tante volte. Dice il dottor Sanjay Gupta della CNN. E mai l'avevo visto cosco in volto. Per Bill Gatz e la lotta all'Alzheimer una questione personale. Ha colpito molti uomini della mia famiglia racconta il signor Microsoft il peso crescente di questa malattia incredibile. Ho provato quanto sia dura. Non la mia sola motivazione. Ma certo stata l'esperienza a tirarmi dentro. E sono ottimista. Credo che arriveremo a una soluzione. Gatz ci crede e ci investe. Mr. Filantropo mette 50 milioni di dollari nel Dementia Discovery Fund. DDF. Che dal 2015 unisce case farmaceutiche. Il governo britannico e Alzheimer's Research UK. Altri 50 milioni andranno in progetti di ricerca ancora da individuare. Soldi di Bill. Che ha un patrimonio di 90 miliardi di dollari. Una prima volta. Finora. Attraverso la fondazione creata nel 1997 con la moglie Melinda. Gatz aveva donato decine di miliardi per la ricerca su malattie trasmissibili. Dalli va la malaria. Sui giovani picche sugli anziani. Ma se è un miracolo che oggi la gente possa vivere cosa a lungo. Le aspettative di vita da sole non bastano. Le persone dovrebbero poter godere di questi anni in P. E per farlo. Serve una svolta nella ricerca sull'Alzheimer. La principale forma di demenza. NDR. Vero che i progressi sono stati pilenti del previsto. Dal 2002 oggi oltre 400 studi farmacologici hanno fallito. Ma Gatz. Che ha passato l'ultimo anno a parlare con scienziati del settore. Crede che i prossimi 10 potrebbero essere cruciali. Nel mondo 50 milioni di persone patiscono le ferite dell'Alzheimer. Gli squarci nella memoria. La perdita del linguaggio. Dell'autonomia. 50 milioni più uno. Bill Gatz cita diversi familiari colpiti. E sul suo sito. Gatesnotes. Definendo l'Alzheimer una piaga che minaccia l'associate. Racconta del padre che fra due settimane festegger 92 anni. Non lo dice chiaramente. Ma si intuisce. Una prova di coraggio. Visto lo stigma che ancora avvolge questa patologia. commenta il professor Marco Trabucchi. Presidente dell'Associazione Italiana di Psicogereatria. Con la sua scelta Gatz ha dato un'iniezione di ottimismo al settore della cura delle demenze. Cosa si fa crescere? Una sensibilità diffusa. Che è il sottofondo sul quale ad un certo momento si inseriscono le grandi scoperte. Fidiamoci dell'ottimismo di Gatz e rimettiamoci a lavorare nei laboratori e negli ospedali. La demenza non una maledizione. Ma una malattia su cui fare luce. L'impegno di Gatz per creare una piattaforma di dati sostiene Trabucchi sarebbe di grande valore. Per comprendere l'evoluzione della malattia. Le eventuali sottospecie e le possibilità di intervento P-mirato. Questione di dati. E di famiglia. Fu pap Bill e mamma Mary a instillare il filantropismo nel figlio. Un paio d'anni fa. Proprio Gatz Senior ha ricordato la nascita della fondazione nel 97. Lui stesso fermi il primo assegno di 80.000 dollari per un programma sul cancro. Che si era portato via Mary tre anni prima. Adesso tocca all'Alzheimer. E allora buon compleanno. Pap Bill. Altro su MSN. Alzheimer. Ecco come si previene a tavola. Ok salute. Riproduci nuovamente video. Gambe gonfie. Guarda la guida facile per non soffrirne. P&C. Cancelletto 249. Pesantezza alle gambe. Formicoli e gonfiori alle caviglie. Ecco i classici sintomi delle gambe gonfie. Che sottintendono generalmente a disturbi circolatori. Questa condizione è P&C. 232. Soprattutto femminile. Le donne sono infatti molto P&C. 249. Colpite rispetto agli uomini da problemi come insufficienza venosa o varici. Le principali cause sono la gravidanza L&D. Cancelletto 39. Uso precoce della pillola anticoncezionale. Gli altri fattori di rischio sono la sedentaria T&C. Cancelletto 224. L'aumento di peso e l'obesit. Cancelletto 224. L'ereditariet. Cancelletto 224. E i disturbi ormonali. Attivi. Cancelletto 224. Fisica. Lo sport. Cancelletto 232. Fondamentale per avere una buona circolazione del sangue. END Cancelletto 200. Importante praticare attivi TEND Cancelletto 224. Fisica 2 o 3 volte a settimana. Variando. Se possibile. La tipologia di allenamento. Sono particolarmente indicati gli sport che tonificano la muscolatura delle gambe come il nuoto. Che migliora la circolazione anche grazie al massaggio naturale dell'acqua. Il jogging. La bicicletta e il trekking. Trucchi quotidiani. Meglio rinunciare all'ascensore ed evitare. Per brevi spostamenti. La macchina. Cercando di camminare di buon passo almeno per 30 minuti ogni giorno. Camminare. Infatti. Favorisce il mantenimento di un buon ritorno venoso. Si attiva la pompa muscolare che spinge il sangue verso il cuore. Se non hai avuto tempo durante la giornata. Cammina END Quote. Contro la parete END Quote. La sera. Ti potrebbero interessare anche gambe gonfie. Guarda che esercizio fare gambe gonfie e pesanti. Segui questi 10 consigli. Hai le gambe gonfie. Prova il mirtillo nero. Stoppa le gambe gonfie in gravidanza. Ok salute. Voglie sulla pelle del neonato. Sfatiamo i falsi miti. Quante volte abbiamo sentito dire che. Quando una mamma ha una END Quote. Voglia END Quote. Particolare durante la gravidanza. Ad esempio. Di fragole. Allora il bimbo nasce rende cancelletto 224. Con una macchiolina rossa sulla pelle. Tante. Ma come altre credenze sul tema. Questa storia non ha conferme scientifiche. Parola END Cancelletto 39. Esperta cosa sono e cosa significano. Allora. Quelle che vengono definite END Quote. Voglie END Quote. Sulle pelle di un neonato. Bisogna trattarle in qualche modo per farle andare via o sono destinare a rimanere per sempre. Guarda la nostra video intervista per ascoltare la spiegazione del END Cancelletto 39. Esperta Paola Marangone. Responsabile di Neonatologia di Humanitas San Pio X. Ti potrebbero interessare anche pelle a pelle con la mamma. Gli effetti durano 20 anni. Il tuo bambino ha un'irritazione da pannolino. Ecco quale crema usare mamme sempre END Cancelletto 249. Distratte durante l'allattamento C END Cancelletto 232. La cura per le mangioma infantile. END Cancelletto 232. Il propranololo ok salute. Problemi con la digestione. Prova queste piante. Ecco quali sono. La liquirizia ha un forte potere antinfiammatorio. END Cancelletto 232. Indicata per la gastrite e le ulcere. Lo zenzero aiuta per la nausea e il senso di vomito. La camomilla END Cancelletto 232. Perfetta per le gastriti e le ulcere gastriche. I disturbi infiammatori gastrointestinali. Per la flatulenza e l'erutazione. La curcuma END Cancelletto 232. Un'ottima pianta con proprietà END Cancelletto 224. Antinfiammatorie intestinali. Mentre la menta piperita agisce sulla perla flatulenza e l'erutazione e in genere sui sintomi del colon irritabile. E per il gonfiore e il bruciore. Le piante carminative come il finocchio. L'anice verde e stellato e il cumino facilitano l'eliminazione dei gas dall'apparato digerente. Possono essere assunte sotto forma di tisane. Opercoli o sciroppi. Per il bruciore e il rinforzo della mucosa gastrica la PND Cancelletto 249. Efficace END Cancelletto 232. Ancora la camomilla. Come vanno assunte. Sono utili anche sotto forma di tisane. In commercio per END Cancelletto 242. Si trovano diversi preparati che utilizzano concentrati di piante. Come ad esempio la menta piperita che funziona bene sul colon irritabile se combinata all'anice, al cumino o allo zenzero. O dispositivi medici a base di particolari combinazioni di frazioni di piante che possono rinforzare le difese della mucosa gastrica. Cerchiamo di mangiarle tutti i giorni END Cancelletto 200. Molto importante inserire queste piante nell'alimentazione di tutti i giorni. Usando un po' di fantasia in cucina. Lo zenzero fresco PUEND Cancelletto 242. Essere grattugiato nell'insalata o utilizzato nella preparazione dei soffritti. Come avviene nella cucina africana. O un pizzico di curcuma si PUEND Cancelletto 242. Utilizzare nelle salse e nei condimenti. I semi di finocchio sono un concentrato di benessere e digestivo. Le foglie di menta sono perfette in aggiunta all'insalata o alle verdure saltate in padella come le zucchine o nella preparazione del classico END Cancelletto 232. Alla menta. Non dimentichiamo, infine, le erbe aromatiche come rosmarino, salvia e timo che hanno anche proprie END Cancelletto 224. Digestive e sono da sempre utilizzate in cucina. Ti potrebbero interessare anche A e lo stomaco sottosopra per via dell'influenza. Prova il cardamomo i 20 frutti P END Cancelletto 249. Salutari del pianeta intolleranza al lattosio. I latticini vanno eliminati dalla dieta. Ecco quando non devi mangiare se vuoi dimagrire ok salute. IMPOS TA Z ION E NON attivo. HDH QSDLO. Sponsorizzato. Maggiore maggiore sconto Microsoft Surface. Il nuovo Surface Pro con cover type e mouse e design inclusi. Vai alla promozione maggiore maggiore. Grazie. Agri.